Allora, per settimana sport, Borgo in Cresciati, è arrivata un'altra vittoria, siete davvero una bella squadra, un gran collettivo. Grazie, sì, oggi, diciamo, primo tempo meno, secondo tempo di più, sicuramente... Stiamo facendo vivere un sogno! Soprattutto questo furbo qui, no, abbiamo fatto una bella partita più nella ripresa che nel primo tempo, diciamo che quando riusciamo a entrare così, come dicevi tu, come collettivo, facciamo sicuramente molto meglio. Certe volte qualcuno pensa di poter vincere a Bardasso, ora è sbagliato, infatti i risultati arrivano, poi non giochiamo come per l'ultimo. Grazie, mister, complimenti per la vittoria, complimenti anche per il primo posto in classifica, e grazie da tutta settimana sport, grazie davvero. Grazie a voi che ci seguite sempre. Grazie, mister, grazie.